baci ragazzi e bentornati sul canale di Aurixpro e l'ante oggi ragazzi ci sono solo io l'ante e volevo dirvi che siamo contentissimi che abbiamo superato i 100 iscritti come vi avevo detto siamo arrivati ai 280 ancora di più siamo contenti se arriviamo ai 300 iscritti che manca proprio poco io anche io farò il video che ha fatto Aurixpro come mi chiamo quanti anni ho quanto sono alto così invece se arriviamo ai 500 iscritti lo so che è molto dura ma noi crediamo in voi e supportateci se arriviamo ai 500 iscritti faremo un bellissimo video di della piscina della piscina a casa mia credo comunque noi siamo contentissimi che abbiamo superato i 100 iscritti per noi va bene anche così però siamo contenti se andiamo avanti andare avanti è sempre bello ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi